Buonasera dalla TGL News. In primo piano la cronaca viene sorpreso dai carabinieri mentre vende droga ad un ragazzo ai giardini in Margherita. Affermato dai militari, il 31enne si è scagliato contro di loro con minacce e spintoni. In manette è finita anche una donna che era con lui e secondo gli inquirenti era la procacciatrice di clienti. Sul nostro sito trovate anche il video dell'arresto. Dignità politica difficile da perseguire ma raggiungibile parole del ministro Anna Finocchiaro oggi a Piacenza per l'apertura dell'edizione primaverile del festival del diritto dedicato al tema della dignità. La rassegna proseguirà domani. Un camper per dare consigli sulle nuove idee di imprese è presente oggi ai giardini Merluzzo a Piacenza di fronte all'Urban Hub nell'ambito del concorso Start Cup. Per la nostra programmazione il nuovo comandante della Polizia Municipale di Piacenza Pietro Vergante sarà protagonista questa sera alle 21 a Nel Mirino su Tele Libertà. E per lo sport è già tempo di derby al Garilli domani sera alle 20 e 30 per la 34esima giornata del campionato di Lega Pro si affronteranno Piacenza e Pro Piacenza. È tutto a più tardi con i titoli del TGL.